Ciao a tutti, sono Cris Martano e sono molto felice di aver ricevuto il premio Vincenzo Crocetti. Eccolo qua, eccolo. Questo premio significa davvero tanto per me perché è un riconoscimento, la prima volta che ricevo un riconoscimento per la mia arte e per quello che faccio con la mia musica. Per questo è giusto ringraziare il fondatore di questo premio che è Francesco Fiumarella e a cui dico veramente grazie di esistere perché è una persona che non solo ama la musica e ogni forma di arte ma soprattutto cerca persone meritevoli e gli dà la giusta visibilità. Quindi ecco perché io non mi stancherò mai di dire grazie, grazie, grazie Francesco Fiumarella.